Cari spettatori di Calcio Video. Vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti voi per il vostro supporto costante al nostro canale. Siamo entusiasti di vedere quanto il nostro amore comune per il calcio ci unisca. Se ancora non lo avete fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. L'iscrizione è gratuita e vi permetterà di rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video dedicati al mondo del calcio. Inoltre, se apprezzate i contenuti che condividiamo, vi chiediamo gentilmente di lasciare un like sotto i video che vi piacciono di più. Il vostro feedback positivo è un grande incoraggiamento per noi e ci aiuta a crescere. Grazie ancora per essere parte della nostra community di appassionati di calcio. Continueremo a lavorare duramente per portarvi contenuti interessanti e coinvolgenti. Forza Calcio Video!